Tutti ci siamo andato un po' di cosine, sono tutti gli attacchi Q38, il Q38 SP che ha il quick release per appunto lo sgancio rapido per essere più veloci e sopra l'attacco per le action cam. Q38 Basic che è molto interessante perché Arcax Swiss sotto e quick release sopra, sotto ha i filetti per poterla avvitare anche su una piastra, in questo modo essere più veloci quando vogliamo passare da un settaggio a un altro. Per esempio si potrebbe inserire su un rig come questo, si potrebbe avvitare qua e andare a swappare da un rig magari a un gimbal. Infatti passiamo alla prossima cosa che iFootage ci ha mandato che è il Q38RS, praticamente è lo sgancio rapido sopra la piastra del Ronin. Questa è la piastra del Ronin e come potete vedere agganciato sopra c'è già il nostro quick release. Si può montare in questo modo. Le piastre sono identiche. Voilà, in questo modo abbiamo il nostro sgancio rapido. Quindi per esempio se abbiamo la camera, il nostro quick release avvitato sopra, possiamo passarla da un settaggio a un altro molto molto velocemente. Ultimo ma non meno importante, ultimo ma non meno importante il Q38RS Mini. Che è appunto per il Ronin Mini, RS Mini e ha lo sgancio rapido, sempre, quindi per essere super veloci sul lavoro e la slitta per poterla inserire direttamente sul Ronin. Questo io penso che sia un bel kit, quello che userò io principalmente sarà la base, semplice, con penso questa per il gimbal, perché quando su certe produzioni che dobbiamo essere veloci per cambiare la camera da un settaggio a un altro, queste sono essenziali. Questa gamma Q38 penso che sia davvero molto molto utile. Spero che sia stato utile anche questo video. Alla prossima, ciao! Grazie a tutti!